Grazie a tutti. non le gare che sprecca poi le mani non mi metti di dietro messo da poco nessuno non mi metti di dietro messo da poco non andai in diretto le mani lasci di subito con la legna non mi senti non mi senti non mi senti lasci di sembri vai 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 quella aveva tutta la parte allora ok devi aspettare vai 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 c'è vai c'è vai vai Grazie a tutti. Grazie a tutti.